Mezzo secondo, mi fermo solo mezzo secondo, ecco ecco no, è partita, finalmente siamo in mezzo al bosco e, bosco, chiamo la pineta, e piove pure, quindi non è che siamo stati particolarmente fortunati con questa pioggia, però che vuoi fare? Andiamo avanti, se continua a fiore mi trocca a mette almeno il telefono e le chiari nella busta di plastica, che falle sta pioggia ragazzi? Ci stiamo solo noi in effetti, se vedi in giro, ci sarà un motivo se non vedo altre biciclette, 11 matti, eccoli qua, i 4 matti in pineta, ma vi ricordate voi negli anni 80 facevano i film della saga i 5 matti? i 5 matti allo stadio, i 5 matti di qua, i 5 matti di là, noi ce ne manca uno che ci ha dato buca, che sarebbe Sergio Era una saga proprio, no? Prima dei rambo 1, rambo 2, rambo 3, rambo 4, facevano i 5 matti in tutte le salse